Amici del grande calcio, bentornati su Senza Giri di Parole, io sono Biazaku e io sono Tatsuno. Allora ho preso un'altra volta la lavagna tattica, mi sono andato a spulciare le azioni più interessanti di Napoli Monza e ho preso tre azioni in particolare dove possiamo notare una cosa che secondo me è veramente importante. Sei pronto? Qual è? Qual è questa? E ora ti faccio vedere, prima però ti ricordo di iscriverti e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui video che carichiamo. Seguitici su Instagram e TikTok, sempre Senza Giri di Parole ci chiamiamo e condividete il video così ci aiutate a crescere come canale. Allora, prima situazione, questa è l'azione secondo me la più bella della partita del Napoli che purtroppo però non si è conclusa con il gol. Vediamo se ve la ricordate, noi che stiamo facendo un po' sesso palla con il Monza tutto schiacciato nella loro metà campo. Sfruttiamo comunque il movimento a venire dentro di Politano e di Lorenzo che va fuori. Politano quindi di prima serve di Lorenzo e grazie a questa triangolazione che si viene a creare anche con Lukaku che viene incontro e quindi va automaticamente a liberare Kvara. Perché con la presenza di McTominay e Kvara sempre in area di rigore praticamente e Lukaku che viene fuori, Lukaku attira su di sé l'attenzione del difensore e di conseguenza quindi uno dei due rimane libero in questo caso Kvara. Di Lorenzo di prima quindi serve Lukaku che è venuto incontro, Lukaku di prima serve Politano che voleva chiudere la triangolazione con Di Lorenzo e invece l'ha chiusa con Lukaku. E Kvara quindi in automatico appena vede il passaggio di Lukaku inizia ad attaccare lo spazio che si è venuto a creare. Politano giustamente lo serve subito, si va anche a proporre per ricevere il pallone praticamente sulla lunetica quindi per chiudere la triangolazione con Kvara. Kvara invece serve McTominay in area che era rimasto praticamente libero, lì però McTominay sbaglia il controllo e viene anticipato, cioè la sua conclusione viene anticipata. Però già in questa situazione si può notare, adesso la rivediamo, come l'utilità di Lukaku in questa azione in particolare è praticamente l'esca, cioè Lukaku è l'esca in questa azione. Cioè l'azione si può solo fare con l'attaccante che esce fuori e i due che vanno a riempire l'aria, cioè senza Lukaku che si porta via gli avversari Quindi questa azione difficilmente ti riesce e questa cosa è passata un pochino inosservata secondo me anche nella valutazione della partita di Lukaku. E' contingente anche col fatto che dicevamo quanto è centrale per il gioco del Napoli-Lukaku, non soltanto per l'imbastimento delle azioni offensive ma anche per concluderle alle volte. Quindi non mi sorprende che Lukaku lo usiamo anche così. Anzi, anzi, mescola benissimo perché questo significa che poi gli avversari sono dei pesci. E ora ti ne faccio vedere un'altra perché questa è l'azione del gol di Politano. Già in fase di partenza si può vedere che la situazione tattica, cioè quindi il posizionamento dei giocatori, è praticamente quasi identico a quello che ci siamo ritrovati a vedere qui praticamente. Con McTominay e Quara che stanno centralmente e Lukaku che viene fuori. E qui è questa è l'azione dove poi Politano si ritrova sulla fascia. Qua è bellissimo che poi riguardandolo, io l'avevo perso, devo dire la verità, il movimento di Anghissà che dopo aver servito Politano fa questo movimento proprio ad allungare la difesa del Monza che arretra anche per seguire Anghissà. Questo movimento di Anghissà viene sfruttato quindi da tutti per andare a riempire l'aria di rigore e Politano subito di prima vuole fare la triangolazione con Lukaku. Il centrocampista anticipa Lukaku che va a chiudere lui la triangolazione con Politano e Politano quindi poi ti fa questa azione. La cosa affascinante è vedere proprio Quara, McTominay e Olivera che vanno a riempire benissimo l'aria quindi uno sul secondo palo, uno sul primo palo e uno sul dischetto del rigore e Politano invece ti tira. Quindi ha scioccato tutti quanti con quella conclusione. Questo va anche a spiegare perché quasi il portiere non se l'aspettava, anche i difensori e nessuno è andato a chiuderlo repentinamente perché ce n'erano tre in aria di rigore che erano pronti a ricevere il passaggio di Politano. E anche in questo caso l'azione si è potuta fare con Lukaku che fa da esca per l'endissima volta. Cioè Lukaku anche nell'azione del gol è stato proprio fondamentale per fare questa azione qua. Eh sì, è la cosa ancora più bella è vedere come i giocatori sono già pienamente consapevoli di quello che devono fare quando la punta non c'è. Perché la regola basilare è che devono essere coperte le tre parti della porta, primo palo, secondo palo e zona centrale. E quando non manca la punta naturalmente questa cosa si fa male tendenzialmente. Invece McTominay è andato da una parte, guarda dall'altra c'era anche Olivera pronto a riempire. Quindi questa è stata una nazione eccellente perché anche se Lukaku era rimasto fuori dall'area, di fatto poi i compagni avevano riempito così tanto bene l'area che un pallone rocambolesco avremmo rischiato comunque di prenderlo. No ma va pure a dare un senso alle parole di Antonio Conte alla scelta di mettere McTominay in questa posizione qua. Quindi per aiutare, proprio per sfruttare il fatto che Lukaku ha il suo pezzo forte a venire a giocare incontro e proteggere palla per i compagni. E anche la questione è Kvara che abbiamo detto fin dall'inizio del ritiro che Kvara in questa stagione doveva avere un ruolo un pochino più centrale, più vicino alla porta. E in due situazioni, tra parentesi le due più importanti, poi ne vedremo pure un'altra, Kvara sa proprio, è quasi una seconda punta. E questo invece è il secondo gol, il secondo gol che nasce da una situazione che il Monza doveva uscire dal pressing, noi siamo stati bravi, come potete vedere, a chiudere praticamente tutte le soluzioni di Turati, che si è ritrovato con questo scenario. Kvara che stava su questo, Lukaku che stava su questo, Lobot che stava su questo, McTominay che chiudeva questo, Olivera che stava su questo, Politano che stava su questo e anche sa che poi sappiamo tutti che è stato lui poi a ricevere quel passaggio di Turati che cerca di dare il pallone quasi sfruttando lo spazio che c'è proprio dietro Lobotica, perché se gliel'avesse data sui piedi al centrocampista probabilmente l'avrebbe messo in difficoltà con Lobotica che gli stava praticamente alle calcagne. Quindi Turati ha cercato di fare una cosa complicatissima, quindi dosare il passaggio per darglielo sulla corsa al centrocampista è andato completamente a vuoto e Angista è stato bravo a sfruttare questa cosa qui e da lì poi si è venuto a creare l'ennesima situazione dove Angista è bravo a temporeggiare e serve Lobotica. Poi per l'ennesima volta Lukaku che si porta ai difensori perché McTominay è stato lasciato completamente da solo perché hanno preferito seguire Lukaku e grazie a questa cosa che Lukaku si è portato a due difensori McTominay si è ritrovato da solo davanti alla porta a calciare superiorità numerica anche due contro uno perché ci sta anche Kvara quindi ritornano la coppia Kvara-McTominay che vanno a sfruttare l'esca Lukaku McTominay viene murato per l'ennesima volta e Kvara poi riesce a metterla dentro perché sta da solo praticamente, non c'è quel giocatore che lo può fermare quindi per l'ennesima volta Lukaku come esca è stato fondamentale quindi tre indizi fanno nella prova io dico soltanto che una cosa del genere se la riusciamo a fare sempre è difficilissima da fermare perché tu non puoi evitare di seguire Lukaku, capisci? cioè è proprio un'esca che non è solo l'esca perché di solito l'esca è una cosa che comunque se non la segui magari non ti crea quei problemi invece Lukaku se non lo segui si gira e tira e ti segna probabilmente quindi non è un'esca che puoi ignorare quindi già il fatto che è un'esca che non puoi ignorare per la difesa avversaria è un incubo cioè è proprio un incubo, cioè un'esca che non puoi ignorare cioè tu sai che magari non riceverai il pallone tu sai che magari stai sbagliando a seguire Lukaku perché comunque ci sono Kvara e McTominay in area di rigore però lo devi fare per forza lo devi fare per forza allora ma io l'efficacia di questa strategia la riconosco appieno così come riconosco appieno che è una tattica basilare del calcio usare la punta come esca soprattutto al giorno d'oggi dove le punte sono così tanto bersagliate dai difensori però dubito che non ci siano diversi modi, diverse contromisure per fargli fianco soprattutto perché l'abbiamo visto con la Juventus ed è per questo che poi Lukaku che rientra in forma o non lo so se non si pensa che non sia fuori fase Lukaku proprio che torna a essere un giocatore importante dal punto di vista fisico ma soprattutto atletico è ancora più importante proprio perché in modo che se non funzionasse questa strategia come è successo con la Juventus almeno possiamo sperare che si inventi lui qualcosa però aspetta anche con la Juventus alla fine le occasioni migliori l'hanno avuto McTominay e Kvara cioè per l'inizio ma pure se con la Juventus anche se non abbiamo segnato cioè le occasioni le hanno avuto sempre quei due cioè Lukaku ha sempre avuto questo ruolo di portare via l'attenzione e di avere l'attenzione su di sé e far arrivare le occasioni a quei due lì cioè quindi anche nella Juventus quando non abbiamo segnato abbiamo visto più o meno la stessa cosa cioè alla fine se lo guardiamo da questo punto di vista se McTominay e Kvara riescono comunque ad essere efficaci sotto porta cioè alla fine Lukaku anche se non dovesse fare quella quindicina di gol io lo riterrei comunque nel discorso tattico è fondamentale cioè è difficile da togliere perché poi questo lavoro qua sì lo puoi chiedere anche a Raspa lo puoi chiedere pure a Simeone però hanno meno impatto come posso dire cioè sono meno hanno meno incutono meno paura nel difensore che magari invece di andarla a raddoppiare a Raspa gli fai fare solo l'uno contro uno e quindi non si viene a creare questa cosa dove ci stanno sia Kvara che McTominay con un difensore che deve guardare entrambi quindi è proprio la prela cioè solo Lukaku può fare questa tipologia di esca secondo me sì ma nel video allora io questa cosa l'ho elogiata e l'ho criticata molto nel video che abbiamo fatto su quanto il Napoli fosse diventato già dalle prime battute Lukaku dipendente per quanto riguarda la formulazione della manovra perché poi il discorso confluisce perché ovviamente la formulazione della manovra con l'aggressione verso l'avversario per andare in gol sono due situazioni di gioco molto diverse questo è normale però appunto la mia sensazione è che questo modo di giocare che Conte conosce molto bene permetta appunto ai giocatori attorno a Lukaku di gravitargli attorno e poi di semplificare i loro movimenti perché poi loro hanno uno spazio da riempire sempre molto preciso però allo stesso tempo temo questo questo impigrirsi della squadra che sinceramente io ho già visto e ho visto anche col Monza però per esempio io con questa cosa questa situazione nuova perché è nuovissima cioè con Victor per esempio capitavano cose del genere ma non erano una costante cioè molto spesso era Victor che doveva finalizzare le azioni e lo sappiamo tutti e quindi questa cosa sta aiutando secondo me anche Quara cioè Quara quest'anno magari è riuscito ad essere più più efficace sotto porta anche perché si ritrova lì a calciare e non da fuori aria e non è costretto a dribblarsi tre quattro giocatori cioè alla fine se devo dare una risposta a cosa ha portato Conte che ha finalmente fatto sbloccare il la capacità offensiva della squadra perché poi non solo Quara anche gli altri ne stanno aggiovando c'è lo stesso Politano che ha finalmente trovato il gol è questa cioè è proprio questa questa situazione nuova che si veniva a creare anche con Victor ma in un modo meno meno cercato cioè Victor invece doveva essere doveva essere lui che doveva concludere le azioni è sempre stato così Victor capito in che senso sì 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 no ma c'è una grossa differenza tra Lukaku e Osimène anche perché Osimène aveva velleità da giocatore tecnico o comunque provava ad esserlo cioè non era non era strano vedere Osimène che andava a prendersi la palla per poi scambiare facendo gli 1-2 a centrocampo Lukaku è molto difficile che provi a fare gli 1-2 quanto riesca a fare le sponde non tanto perché non le sappia fare perché sono convinto che le sappia perfettamente fare ma per Lukaku è importante soprattutto aprire gli spazi per i compagni io continuo ad avere una concentrazione abbastanza grossolana di questa strategia perché secondo me alla lunga non paga però Conte è l'allenatore io di Conte mi fido vediamo vediamo se qualcuno riuscirà a trovare una una sistemazione tattica per non lasciare Kvara e McTominay in superiorità numerica in area di rigore sono curioso di vedere se qualcuno ce la farà e probabilmente se qualcuno ce la farà significa che dovrà lasciare qualcun altro libero perché se porti un altro uomo in area di rigore magari lasci un centrocampista che fa l'inserimento libero oppure non lasci un esterno che fa l'inserimento libero e quindi anche in quel caso ne trarresti un vantaggio tra virgolette ragazzi io direi questo video può terminare qua fateci sapere cosa ne pensate con un commento lasciate un like se il video è piaciuto iscrivetevi condividetelo così ci aiutate a crescere come canale e forza Napoli sempre adiu grazie a tutti